Propositivo, con l'idea chiara di fare come suol dirsi la partita, ma senza mai rinunciare agli equilibri. E a grandi linee è questa l'idea di calcio di Massimo Brambilla, il neo allenatore del Foggia. Ma come giocheranno i rossoneri nella stagione ormai alle porte? Nelle ultime due stagioni l'allenatore di Vimercati ha fatto del 3-4-2-1 il suo marchio di fabbrica, in verità. La difesa 3 è un mantra dell'allenatore che l'ha adottata anche nelle sue precedenti esperienze tra i bebidoro dell'Atalanta, sulla scia di un modulo peraltro caro a Gasperini, guida tecnica della prima squadra aerobica. Brambilla ama difensori strutturati fisicamente, ma in grado di dare comunque del tuo al pallone, visto che non disdegna la costruzione dal basso, anche se non la si vive come un'ossessione. In mediana grande importanza rivestono i due quarti, devono necessariamente garantire spinta, ma avere anche capacità di ripiego nelle fasi di non possesso. In mezzo invece spazio a qualità e dinamismo con il doppio play. Fin qui le zone di equilibrio, mentre la fantasia viene liberata dalla tre quarti in poi. Brambilla predilige il doppio trequartista al ridosso della punta pura, ma all'occorrenza è capitato di ricorrere anche al classico 3-5-2, con due attaccanti davanti. Nel 3-4-2-1 però ricerca profondità nella punta centrale, spesso fisica, vedi Pecorino due stagioni fa pochi metri più dietro, via libera a fantasia e imprevedibilità. Nel Foggia gliela assicurerà Vincenzo Millico, da affiancare ad un altro calciatore con caratteristiche più o meno simili. Concetti di base sui quali lavorare in chiave mercato e che andranno poi affinati a partire dalla seconda, metà di luglio, quando col ritiro precampionato comincerà a prendere forma il Foggia edizione 2024-2025, targato a punto Massimo Brambilla.